29 luglio 1974 una truppe cinematografica si inoltra nelle foreste del Borneo è l'inizio della lavorazione di un grande film un film che sarà girato nei luoghi più selvaggi dell'estremo oriente dalle incredibili spiagge di Labuan alla impenetrabile giungla dell'Alto Siam dai pericolosi mari della sonda alle isole incantate del Pacifico due anni di pericolosa lavorazione il cast è internazionale e comprende fra gli altri Adolfo Celi, Philippe Leroy Andrea Giordana, Carole André il protagonista è Kabir Bedi la rivelazione del cinema mondiale il film è Sandokan Sandokan, Sandokan già non il sole la forza mi dà Sandokan, Sandokan André Giordanaх oh adesso Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.